Una lettera ai giovani, quella di questo mese, che potremmo quasi definire essere stata scritta a quattro mani, per metà dal pastore, dal vescovo, e per l'altra metà dal medico, potremmo dire così. Ma io ho preso spunto per questa lettera, questa frase di Paolo VI, il mondo soffre per la mancanza di pensiero, e poi io subito mi sono collegato a questo, diciamo, stile sociale, dei social, in cui compare sempre la sigla I like, e allora credo che certamente I like è una bella affermazione, ma non è sufficiente per la vita, non basta dire a me piace, ma bisogna cercare di capire ciò che a noi piace, perché se io non capisco ciò che mi piace diventa difficile, anzi diventa problematico per costruire la propria esistenza. Mi ha molto colpito l'esperienza che ho vissuto nella scuola di Borsellino, qui a Teramo, alla Cona, dove si stava festeggiando i vincitori del concorso sulla donazione, perché era una bellissima esperienza sulla donazione di sangue. I ragazzi, le scuole che hanno vinto, erano partecipi presente, e io ho detto a loro che nella vita non bisogna soltanto scegli I like, ma bisogna scegli io ti voglio bene, perché se tu scegli I like non vai avanti nella vita, e se io ti voglio bene vuol dire che davvero tu ti stai impegnando per donare qualcosa di te agli altri. E io dico, mia sorpresa, che quando per la terza volta ho rispettato, Allora ragazzi, non dobbiamo dire, non basta dire I like, i ragazzi, i gasori, hanno detto I love you. E i professori che erano lì, l'insegnante, erano tutti stupiti. Cioè i ragazzi hanno capito e hanno tradotto loro che bisogna passare da mi piace a ti amo, ti voglio bene. E questo è un segnale importante che c'è ancora una realtà che ha bisogno di essere aiutata a crescere in questa prospettiva. Ho detto anche ieri, a Torricella Sabina, parlando proprio dove ho inaugurato un nuovo parco giochi per ragazzi, e c'era tanta gente, ho detto loro che chi prosegue nella via dei I like non va molto lontano.